ciao a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale io sono arwen ed oggi siamo qui con ephemeral e dobbiamo iniziare l'episodio 2 di natsume la mummia dopo un incubo ok non sta parlando qualcosa di spaventoso mi sta inseguendo qualcosa di fangoso e puzzolente sto cercando disperatamente di scappare ma le mie gambe non si muovono sono bloccate nel fango e non si muovono per quella cosa ormai vicino a me ah ah era solo un sogno mi asciugo tutto il sudore sulla fronte sentendomi sollevata quando mi volto vedo la luna luminosa fluttuare fuori dalla finestra mi devo svegliare e prepararmi per andare a scuola abbasso la testa sulle coperte mi sono appena svegliata ma a causa dell'incubo mi sento molto stanca non avrei mai pensato che sotto le bende di una mummia ci fosse qualcosa di così terribile forse non avrei dovuto essere così curiosa ieri il dottor robin mi ha fatto vedere cosa c'è sotto le bende e prima di vedere tutto sono svenuta dopo di che mi sono svegliata nel letto della infermeria ma non ho visto natsume quando mi sono resa conto che mi aveva lasciata lì ci sono rimasta male e alla fine sono tornata a casa da sola mi alzo dal letto barcollando e inizio a prepararmi anche quando arrivo a scuola mi sento ancora così stanca arrivo presto in classe e mentre sto con la testa stesa sul banco sento una voce sorpresa sopra la mia testa che succede ti senti stanca così all'improvviso erica ho avuto un incubo wow che viso che hai proprio chloe è tutto ok ho un colore così brutto non ti sei vista allo specchio per cominciare non è che tu abbia la carnagione migliore ma ora sei molto pallida probabilmente è dovuto all'improvviso cambio di ambiente non stressarti troppo lo so grazie sorrido debolmente e dò uno sguardo al banco vicino alla finestra anche natsume è cari è coricato sul banco come se stesse dormendo ding dong ding dong dong non so che cosa sarebbe la campanella dell'inizio delle lezioni suona proprio poco dopo un insegnante nervoso e anziano entra in classe all'insegnante di lingua studenti prego sedetevi ora iniziamo la nostra lezione di lingua ufficiale aprite il libro a pagina 92 continueremo da quella pagina so che dovreste già sapere l'importanza della lingua ufficiale ma voglio ricordarvela ancora la lingua ufficiale è diversa dalla lingua che usate tutti i giorni in pubblico questo tipo di linguaggio è molto importante alcune nazioni sono dominate da una razza ma alcune sono come noi quindi composte da tutti i tipi di razze nelle negoziazioni o altro con un'altra razza che potrebbe avere lo stesso linguaggio noi useremo la lingua ufficiale il suono degli studenti che girano le pagine risuono a questo inquieto in classe a causa dell'incubo non ho dormito molto e ora mi sento estremamente assonnata giro il nuovo libro di testo e faccio un piccolo sbadiglio il professore mi vede mentre lo faccio e mi manda un'occhiataccia bene chloe traduci il contenuto della ventitresima linea ecco stai sbadigliando dall'inizio della lezione questo non significa che è una cosa semplice per te penso che una studentessa eccezionale come te debba essere in grado di tradurlo anche quando hai sonno no ho sentito che prima di venire qui vivevi in una città isolata ma è facile no ecco dunque a parte la traduzione non so neanche come si pronunciano queste parole nella città degli zombie non ho mai sentito parlare di questa lingua ufficiale ecco mi scusi non lo so non lo sai adesso hai appena detto che non lo sai ma guardate non voglio associare la bassa abilità di imparare alla classe bassa ma ma quelli che hanno i voti peggiori sono quelli che appartengono alle classi basse non si può certo evitare il collegamento mamma mia quanto è cattivo ci mancava solo il professore l'insegnante volge il suo sguardo verso un azume che è stato sdraiato sul banco per tutto il tempo non c'è proprio niente da fare bene allora ray con un ray can con non so come si legga per favore traduci al suo posto si ray traduce quel testo con maestria e perfezione per tutta l'aula risuonano sospiri di ammirazione io mi vergogno e basso la testa lo so che è stata colpa mia sbadigliare durante la lezione ma non credo che le classi dovessero essere menzionate anche tra i professori ci sono alcuni che fanno discriminazioni guarda di sfuggita natsume che è seduto vicino alla finestra non posso certo obbiesimarlo per essersi addormentato in classe ma ma mi sarebbe dispiaciuto far notare al professore anche la situazione di natsume forse è un bene che lui stia dormendo forse non ha neanche sentito il rimprovero ironico del professore giusto il suono dei passi degli studenti che camminano risuona nel corridoio perché mi stai seguendo voglio sapere dove stai andando perché mi devi controllare lasciami in pace almeno nel momento delle pause ma noi siamo partner che ha detto che partner vuol dire stare insieme 24 ore su 24 puoi ritornare in classe quando sono con te e tutta la sfortuna sembra venirmi addosso ma non è vero certo che sì proprio come durante la lezione di prima sono stato obbiesimato a causa tua è risveglio se non mi fossi svegliato saresti rimasta in silenzio pretendendo che non fosse successo nulla wow una donna con una mente distorta è così incredibile non intendevo nasconderlo o altro non mi fa né caldo né freddo che quel professore mi dica quelle cose ma non mi piace essere intrigato in problemi di cui non ho bisogno sì ma non andava bene dormire durante la lezione mi manda uno sguardo molto severo e realizzo che non avrei dovuto menzionarlo cos'è dai la colpa a me scusami ah ehi la faccia di natsume ora è molto scocciata perché ti scusi sei un idiota addormentarsi durante la lezione era un mio errore no per quello il professore si è poi riferito a me anche se potevi tradurre quel testo penso che il professore mi avrebbe comunque detto qualcosa lui lo fa sempre sempre questo significa che dorme sempre ti ho solo spinta un po e tu sei stata così veloce a scusarti cos'hai che non va il confronto non importa quante volte ti dico di starmi lontana ma tu continui a seguirmi non riesco a capirti sparisci sento il petto stringersi questa è la prima volta in vita mia che affronto un'ovvia ostilità di da qualcuno e non ho idea di come rispondere o reagire facciamo voglio diventare tua amica non importa quello che mi dirai io voglio solo diventare tua amica perché mi chiedi il perché se non ho una ragione non possiamo diventare amici che ne so perlomeno io non ho intenzione di diventare amico di qualcuno senza un motivo valido il modo in cui mi guarda mi ferisce i suoi occhi chiari e belli brillano freddi come il ghiaccio visto che mi odia così tanto se insisto a diventare sua amica sarò davvero una seccatura perché stai piangendo eh ah le lacrime mi cadono una dopo l'altra mi sono resa conto che stavo piangendo solo quando me l'ho fatto notare lui non avevo intenzione di piangere scusa continuiamo a scusarci ti senti meglio ora ieri sei svenuta quando il dottor robin ti ha mostrato cosa c'è sotto le bende no dopo quello che è successo stai bene ma ma perché ora è passato improvvisamente a questo argomento l'argomento è cambiato così repentinamente che ho smesso di piangere quanta paura hai avuto visto che sei svenuta deve essere stato molto grottesco no sì è stato molto spaventoso forse sta cercando di consolarmi con il cambiamento dell'argomento sembra che mi sia calmata che strano se lo dico a natsume potrebbe arrabbiarsi e dirmi che è il mio ego e mi puoi descrivere come era come era è difficile da descrivere a giusto non sei neanche brava con le parole poi scusa è ma dovresti saperlo no perché no che non lo so anche io in quel momento non volevo svenire e quindi non ho guardato è addirittura così brutto che anche tra componenti della stessa razza è difficile da vedere trovo difficile evitare di ricordare la pelle marcia del dottore ho provato a pensare intensamente ad altre cose per cacciare quell'immagine della mia testa ma se quella fosse stata la mia faccia che cosa avrei fatto forse la coprirò con le bende e non mi mostrerò più a nessuno anche se risulta molto difficile ehi te ne puoi andare ora visto che non stai più piangendo non seguirmi più aspetta allungo la mano in fretta per fermarlo ma natsume se ne è già andato continuerebbe a dirmi cose crudeli semplicemente rimango qui ferma a guardarlo mentre se ne va via se ne è andato visto che non stai più piangendo allora aveva davvero cercato di consolarmi gentile o crudele non riesco proprio a capire natsume beh non riesco a capire neanche me stessa dovrei stare lontano da natsume visto che lo irrito perché mi preoccupo tanto di lui forse perché ha dei bei occhi pensavo di aver scelto natsume senza alcuna ragione particolare ma forse ero solo attratta dai suoi occhi sono così belli e solitari i suoi occhi ritorno in classe da sola cercando di capirci qualcosa dei sentimenti che provo o ecco meno male allora praticamente mi sembrava con questo cambiamento di umore diciamo di comportamento improvviso in natsume che prima ci dice tutti di più ci offende ci dice che noi lo irritiamo che non ci vuole vedere che gli diamo fastidio bla 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 e poi alla fine all'improvviso dopo che ho fatto la scelta che gli abbiamo detto che vogliamo diventare sue amiche allora a quel punto ha cambiato argomento ha cambiato proprio comportamento e cercava appunto di consolarci e come vedo l'episodio 2 abbiamo finito con il finale felice quindi stiamo a 20 punti di finale normale e 20 punti di finale felice siamo alla pari ecco per adesso ditemi cosa ne pensate di natsume già questo cambiamento improvviso è stata una cosa carina da parte sua niente di chissà che cosa niente di speciale però comunque è già un passino avanti fatemi sapere cosa ne pensate se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi attiva della campanellina se volete anche seguirmi su instagram vi lascio il link della mia pagina instagram sotto ad ogni video in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video un bacione ragazze ciao ciao